Rieccoci su Castlevania! Oggi vediamo il livello catacombe della Bazzini perché come sapete dobbiamo entrare lì dentro per prendere quel bastardo del monaco che si è rifugiato lì. Ci siamo spinti nell'approfondito della Bazzia, pronti ad affrontare il male che ci sta sfidando. L'abate Vincent O'Rin, un tempero, un uomo buono e gigante, che aiutava gli abitanti di Vito, ma ora è diventato un prodotto malvagio che si è inutato nella Bazzia, riempendola di trappole ingegnose. Oggi vedremo queste trappole ingegnose, quanto saranno ingegnose per noi. E vedremo quali altre sorprese ci aspetta dentro questa Abadzu. Bene, cominciamo! Eccoci! Benissimo! Vediamo cosa ci aspetta! Ghiaccio! Fa così freddo qua! No! Ok! Oh! Mamma mia! Oh! Oh! Questi sono vampiri! Sono i vampiri di questo gioco! Oh! Avremmo eliminato il primo bambino, eh! Sì! Allora, vedi cazzo! Hanno delle specie di mani sopra le armi! Ah! È lì quell'armi! Ah! Sì, stai manco! Dobbiamo prendere quel bastone lì! Sì! Di nostre ore! Resa sempre! Il bastone! Eh! L'abbagno! Cos'è? Ah! No! Ti ha morso! Direi che lo dovresti diventare uno di loro! Ma tu sei mortale! No! Sei mortale! Anche prima che ci diamo il mostro! Vabbè! Pura strada! Ah! Che strage! Che strage! Di quelle proprio... fenomeni! Prendila, cavolo del bastone! Sì! Piccalo qui! Il bastone! E apriamola, maledettissimo gioco! Perfetto! 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 Zobach mantieni la porta! Perfetto! Perfetto! Eh! Ma è scimo! Non mi potete toccare! È scimo! Non passa attraverso la porta aperta! Ma è scimo! Sicuramente è scimo! Perfetto! Non ci è passato! Perfetto! Perfetto! Siamo fuori tutti questi vampiri perchè hanno rotto già troppo l'esercito Aiutami con gli piedi di corte Oh sono entrato, sai che fa? E adesso? Ma ma questa è questa colonna, non è incluso una colonna Ah si coltivismo Ops, on Ricarichiamoci Ehi Qua stanno due leoni che non capiamo cosa siano Cosa devo fare? Che cavolo l'ho Aspetta Ah ho capito Ho sfondato un po' qui Zo Vieni qua, vieni Ah mi serve colpato Tuo quadrat 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 Che quadrat? Che quadrat? frega il bastone si no mentre prendevo il mio bel bastone mi hai colpito mentre di spalle proprio mi schina il mare e sei morto non è giusto andiamo guarda un po' che cosa hanno fatto la mia bella tra poco l'anno in mezzo quel bastone ci servono due chiavi per andarcene come al contrario me ah lo posso lasciare allora vediamo che cosa si è inventato la mano la chiave sta sempre in posizioni strane comunque non la vedo non la vedo sono ucciso è invisibile la chiave beh mi serve il bastone pure qui pure qua serve il bastone e prima del bastone il bastone è tutto il bastone ti salva la vita il nostro eroe prese ancora una volta il suo bel bastone e lo ficcò nuovamente ecco ed è coglione perchè non sa manca ficcò un bastone prendi qua qua dentro va il bastone si beh bravo e se parli indietro mo perché non si sa e io ci dovrei salire là su aiutami a prendere il porco tocco nooo non c'è ma non fate rumore non fate rumore non fate rumore eh puttana allora vediamo cosa sta qua ah e prendiamo la chiave si hai trovato una delle chiave bene e adesso prendiamo il bastone abbiamo trovato una chiave che assomiglia al bastone è tutta una roba di bastone se voi giocate alle carte napoletane mi raccomando ricordatevi i bastoni oh bastardo devi ficcarlo qua dentro qua in questo buco oh vedi com'è è apposito per te dai tira tira l'indietro tira sempre vai gira l'ongolo sempre qua tutto fa pensare tranne che al bastone va bene andiamoci vediamo cosa ha preparato qua il nostro amico bastone oh che c'è qui il soffitto eh è di parire eh l'altra lastra dai 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 ma che significa ant ma che significa ant cos'è ant? che tasto è ant? che tasto è ant? siamo morti come dei rincolioni! che tasto è ant? faccio una live pangere riprendiamo da dove ci eravamo fermati ho capito che quello era un bug solamente si vedeva alt più la n sopra quindi non è niente di che va bene vabbè Kinda va bene qua sappiamo che cosa succede avete visto il primo ma non ti vabbè qua sappiamo quas quindi cosa succede ALT 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 vai 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 ALT 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 N OUT ALT 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 Noiiii siiii ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta tutto questo perchè? per una N del pit Una M del Pene, eh? E infatti la parola Pene tiene una E. Oh, dietro, sì. Ma non è che qua sta qualche... Non l'avevo trovato neanche una gemma in questo livello. Possibile. Secondo me sta qualche cosa di strana. Condimiamo. Eh, in bocca al primo leone. E in bocca al secondo leone. Eh, ricarichiamoci un piettino qui. Andiamo. Che è finito? Pensavo fosse finito. Meh. Questa abazia ha cose molto... Che cos'è questo? Cos'è? Un giardino? Dei simboli strani? Una faccia di un abate? Eh, è quella l'abate. Che cavolo sta qui? Attenzione ragazzi, la cosa si fa molto più strana. Questo è il giardino della Bezza. Eh, è quello, che cavolo è? È un portale. Uh! È la prima volta che vediamo un portale, ragazzi. Ah, beh. C'è uno strano simbolo, sì. Me ne irò a coca. Ragazzi. Bene, e adesso? Ah, mi teletrasporta. Dove sta il simbolo? Giustamente. Ecco un cadavere. Ne abbiamo trovato uno, finalmente. Una per Gami. Questa porta non si può. No, non si può. È questa? Ne è lì? E allora, che cavolo è? Andiamo di qua. Ah, ma là c'è un cadavere. E allora non mi riesco a spiegare che cavolo dobbiamo fare. Aspetta, allora lì sta il portale, ma non mi... Ah, ecco qua. Che cosa è questo? Questo non l'avevamo visto prima. Oh sì. E non lo capite. E ci stiamo a grattare. Ah, pensavo si potesse sfondare invece. E se non si può sfondare, è questo qua. Come cavolo si fa? Aha! Ecco. Sempre i maledetti bastoni. Non mi mettete i bastoni in mezzo. Non mi mettete i bastoni tra le ruote. Ma in questo caso, proprio tra una ruota. Stato per me. Eeeh! E già arrivano però i scatoletti della madonna. Pure i gaull! Ci sono pure i gaull! Adesso ai gaulli ve lo mettiamo in gatto. Il bastone, eh. Questa volta è quel bastone. Stragide, il bastone. Come on! Da, ehi. Da, il dà, è più bello. I need you to hold the device steady, Zob가는. Hold on.